ciao a tutti amici sono Erika e benvenuti in questo nuovo video su nintendo spiocchetto versione golden retriever bene innanzitutto vi volevo augurare un buon natale ebbene sì oggi il 24 dicembre 2016 e finalmente questa sera noi apriamo i regali facciamo il grande cenone con i miei parenti e sono veramente contenta l'ho aspettato per almeno due mesi se non di più questo momento magico se si può dire questa mattina l'ho anche passato a cavallo perché ho fatto cavallo una bella passeggiata a cavallo un bel trekking praticamente nella nella mandria della rubianetta vicino casa mia ma sicuramente sapete dov'è la mandria una rubianetta e comunque questa mattina ho fatto una splendida passeggiata da me mi sono divertito un mondo tanto è vero che non ho fatto nessuna fatica ad alzarmi per poter andarla comunque adesso ho deciso di fare una bella passeggiata con uno dei miei cani non c'è a cani però pazienza ci prendiamo la buona shasta e speriamo di poter trovare il passeggio segreto perché a natale ovviamente se gli apriamo i regali scusate per il dita le mie dita ah si non so se si sente ma penso di si ho messo una canzone per poter far legare un po di più questo video ecco va bene mia sorella si sente anche lei di sicuro ma si dai siamo tutti più buoni a natale scusate ok ok questo è un cane diverso perché questo mi l'ho incontrato qualche giorno fa se non sbaglio oppure è un mi che ho incontrato grazie allo street pass un altro siberiano aschis e si chiama speed molto carino comunque ora li abbiamo visti e dato che non c'è devo perdere troppo tempo usciamo di già eh si perché devo fare un sacco di cose poi caricarlo mi sento di mettere una qualità forse non buona non mi spiace perché vorrei caricarlo entro sera quindi oggi entro le 8 per farvelo vedere ecco anche questo è anche questo è un altro mi che ho incontrato grazie allo street pass petterini regali un po di m però mi danno regali dato che siamo a natale sono tutti gentili anche i miei virtuali molto bene oh un regalo per strada il primo regalo di questo video no il terzo regalo di questo video percorso lì non andiamo a danaglia ne ho parecchi cosa che dopo ne rompiamo una poco ma sicuro no niente eh 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 oh testone ho fatto ripartire la musica ok come prima passeggiata ragazzi è stato un fiasco facciamo ancora un'ultima passeggiata per vedere se riusciamo a trovare il passeggio segreto perché da un po' che non faccio passeggiata di questo tipo facciamo sempre sui tanti cordapassi tra l'altro ne ho fatto anche uno ieri e ho incontrato non delle persone su nintendox cat ma ho fatto altri incontri almeno altri due ripetono su nintendox più cat ecco purtroppo bene bene vi facciamo un'altra passeggiatina l'ultima però con Vicky sì perché non voglio fare le tre passeggiate in un solo video ecco è vero è vero forse dovevo iniziare quando trovavo il passaggio segreto però pazienza non è un problema questo è un personaggio già esistente nel gioco quindi nessun regalo purtroppo va bene andiamo al caffè speriamo di trovare questo maledetto passaggio segreto ma siamo sempre tutti più buoni alla tale quindi ci sta molto bene sì mi spiacciono i tipi o come si pronuncia dobbiamo andare devo fare un sacco di cose e tra l'altro dopo questo video se non fra un paio d'ore comunque vado anche aiuto in cucina mia mamma a cucinare mia mamma in poche parole aiuto mia mamma a cucinare perché siamo in 12 questa sera quindi ho deciso di fare dei grassini utilizzando la pasta sfoglia che tra l'altro sono velocissimi da fare e sono stra buoni se ho già fatto una volta sono venuti buonissimi li abbiamo finito subito e quindi voglio farli ne farò una trentina ecco ragazzi è arrivato si intravete il passaggio segreto speriamo che il nintendo sia buono oggi con me a proposito sapete che ogni tanto si sblocca questo maledetto nintendo comunque io come regali ho deciso di farmi rivelare tanti bei film horror sapete che sono un appassionato di steven king di resident evil and the war e di film zombie in generale e anche di alien infatti come nel primo film ho chiesto il copanetto di alien contro predator spero proprio di averlo per natale altrimenti lo chiederò per il compleanno non è un problema perché il mio compleanno è il 12 gennaio spero che chiederemo il giorno prima perché il prossimo giorno del mio compleanno io dovevo andare a Roma che poi vi spiegherò meglio perché per una settimana dovrò stare là e quindi purtroppo non ci saranno video per una settimana ma poi ne riparlerò un'altra volta non ve ne dico più avanti perché adesso non c'è tempo finiamo questa passeggiata e poi ci salutiamo perché è un video troppo lungo disco pizza va bene ne ho centinaio di questi dai testa di cazzo ops volevo aiutarvi dire però l'acqua scusate non vedrete molto testa di cavolo cane niente colpo di questo cretino di ziki che mi fa impazzire mamma mia mi posso togliere la mano per un po' dallo schermo se non ho in una posizione non tanto bella ecco fa questa cazzo di cazzo va quando mi fa da arrabbiare questi cuccioli mamma mia va bene ok l'hai fatta ora puoi muovere il cuore per favore peccato una strada ma questo cane non so se sono un becchile io oppure il cucciolo va bene oggi mi vuole far incazzare mi ha imbranato il cucciolo secondo me vabbè ragazzi almeno l'abbiamo fatta e abbiamo ricevuto quattro regali almeno e ce n'è un altro lì in fondo e forse questa qui ci sarà regali no antipatico vabbè comunque l'ho incontrata grazie allo stretch pass anche questo prendiamo l'ultimo regalo mi ha nominato un passaggio segreto malediziale vabbè sono passati dieci minuti questo video lo devo percorso a convertire e quindi mi spiace ma non so se sarà una buona qualità non so bene se verrà con una buona qualità perché lo devo convertire ci metterà almeno tre o tre o quattro ore e mezza almeno quattro ore e mezza purtroppo sì ci metterà tanto tempo e mi spiace l'allenamento comunque sono contenta che i video di dottor sovra che hanno spirito e bambini sia piaciuto parecchie persone quindi stavo pensando di portare un video un po' lungo così potete così ho deciso di farne un altro appunto per poter non riesco più a parlare ora comunque per vedere se vi può piacere lo stesso ecco non lo caricherò di sicuro oggi perché sono ancora in alto mare ho fatto 2-3 scene nuove e ci metterò parecchio tempo ma spero che per il 30-31 di poterlo caricare ecco questo nuovo cross-dose tra bambini e spirit e poi sì volevo fare un altro animash oggi ma non so proprio se riesco a farlo o caricare un video sulle maschine ma perché dopo devo andare e devo cucinare appunto quindi e poi mi volevo vedere i terzi episodi della serie di The 3 Nation della terza stagione quindi non so se riesco a fare un animash anche di 2 minuti però troppo ragazzi vi accontrerete di questo vero spero proprio di sì ok laviamo l'ultimo cucciolo e poi ci salutiamo perché sono già passati 13 minuti di me adesso dai forza che devo chiudere con il video per fortuna nessuno mi ha disturbato anche se avete sentito la voce molto produttivamente di mia sorella ma pazienza non è la prima volta che si sente nei miei video anche nel penultimo si è sentito e parecchio anche insieme a mia mamma cavoli loro ok va bene ragazzi questa è la pallina che mi hanno dato delle persone che ho fatto nei ultimi due incontri che ho fatto qui su nintendo spiuchette che vi faccio vedere qui è stata quando sono andata al torino comics ecco 12 incontri buon natale e purtroppo non ci sono foto perché però forse ne farò un'altra una per come miniatura per questo video vedrò va bene ragazzi questo video è durato fin troppo e spero che vi sia piaciuto se così fatemi sapere se ci siete perché voglio sapere se vi è piaciuto e spero che mettete un bel like al video per vedere quante persone mi seguono e così capisco se continuare con questo gioco oppure provare a comprarne un'altra e provare a ricominciare da capo con un'altra versione di nintendo spiuchette magari lo faccio lo stesso e con questo gioco non lo porterò più magari porterò due qualche video ma raramente va bene noi ci salutiamo e vi auguro ancora buon natale votate commentate iscrivetevi al mio canale lasciate un bel like per aiutarmi a crescere e niente ciao a tutti ragazzi